Eccoci, cari amici, buonasera, puntualissimi come al solito, stasera eclatante. Abbiamo non solo il bugiardino del famosissimo ormai vaccino Covid, ma lo abbiamo tradotto in italiano, quindi abbiamo delle informazioni chiarissime. Guardate, non vogliamo essere detrattori di nulla, non vogliamo inventare nulla, non vogliamo fare sofismo, non vogliamo fare i no, i contro, non vogliamo solo leggerlo insieme. Se c'è una cosa di cui ha bisogno un popolo democratico è di verità, quindi senza raccontare, senza andare in televisione a prendere soldi, a essere pagati, a fare i burratini, a fare gli attori. Noi che siamo giuristi in questo caso cosa facciamo? Leggiamo attentamente quello che dicono sul bugiardino di un medicamento che dovrebbe essere inoculato in tutte le popolazioni occidentali del mondo. Per fortuna siamo animali, ci ha creato Dio con un cervello, un intelletto. Allora non ci resta che leggere quello che dicono, immaginate quello che non dicono. Adesso leggiamo insieme quello che dicono del vaccino, immaginate quello che non dicono. Tutto qui. Ognuno poi farà le proprie considerazioni. Ci sono tante persone che giustamente per loro, per la loro indole, per la loro cultura, non vengono l'ora di mettersi in fila per farsi inoculare questo vaccino, un vaccino che deve stare a meno 80 gradi, ghiacciato, deve essere scongelato, non può durare più di tre giorni, una serie gigantesca di preclusioni, di pericoli. Ma interessa queste preclusioni a chi si vuole vaccinarli. Chi invece democraticamente deciderà di non vaccinarsi è meno interessato. Ma almeno sappiamo quello che dicono nel loro bugiardino di questo vaccino. Allora, senza altri indugi e senza altri racconti, leggiamo tranquillamente insieme una decina delle righe di queste undici pagine. Vi voglio far vedere, vi voglio far vedere, ecco qui, undici pagine. Guardate, questa è l'undicesima, ecco, questa è l'undicesima pagina, queste undici pagine di questo vaccino. E leggiamo le parti più importanti, ovviamente ve le abbiamo sottolineate, tenete presente che come al solito già da domani troverete questo bugiardino con le indicazioni sul nostro sito www.iostocoll'avvocatopolacco.it e allora guardiamo, guardiamo insieme queste novità. Per chi un giorno volesse vaccinarsi, come ben sapete, il sottoscritto per se stesso e per le sue figlie ha già preso una decisione di non vaccinarsi, poi altre persone faranno altre decisioni, prenderanno altre decisioni. Ecco qui, allora, questo medicinale non dispone, no, questa è la prima riga, la prima pagina, non dispone di una autorizzazione all'emissione in commercio nel Regno Unito, ma ha ricevuto l'autorizzazione per la fornitura temporanea, non dispone di una autorizzazione all'emissione in commercio nel Regno Unito. Prima pagina, immaginiamo cosa ci sarà nelle prossime pagine. Popolazione pediatrica, nei bambini di età inferiore di 16 anni non sono state stabilite la sicurezza e l'efficacia, la sicurezza e l'efficacia nei bambini al di sotto dei 16 anni. Andiamo avanti, allora, ecco qui, interazione con altri medicinali, per cui ci saranno, ci sono milioni di persone che prendono anticoagulanti, milioni di persone che prendono farmaci per la pressione, milioni di persone che prendono cortisonici, milioni e milioni di persone, milioni, che si curano con una serie di farmaci per la propria sopravvivenza. Allora, giustamente, questi milioni di persone devono sapere se c'è della interazione con i farmaci che prendono e con il vaccino. Quindi, andiamo a vedere queste persone se si potranno vaccinare. Ecco qui cosa c'è scritto. Non sono stati effettuati studi di interazione con gli altri farmaci. Ecco, non sono stati studiati. Eccolo qua. Gravidanza, i dati sull'uso del vaccino, non sono disponibili. Studi di tossicità, ecco, Tossicità riproduttiva negli animali. Quindi, per la gravidanza degli animali, sono stati fatti studi di tossicità riproduttiva, ma non sono stati completati ad oggi. Allattamento al seno. Un rischio per i neonati, bambini, non può essere escluso. Un rischio non può essere escluso. Andiamo adesso, penso, al clou di questa fertilità. Di questo parleremo, di questa fertilità. Il vaccino si incide sulla fertilità. Un giorno ne parleremo, perché poi spiegheremo perché si deve vaccinare il mondo occidentale e perché sembra che invece un altro mondo, l'Africa, per esempio, non debba essere vaccinata. Fertilità. Non è noto se il vaccino abbia un impatto sulla fertilità. Non è noto se il vaccino abbia un impatto sulla fertilità. Questo lo dice il bugiardino del farmaco che sarà messo in commercio tra pochi giorni. la sicurezza, sicurezza del vaccino covid condotto negli Stati Uniti. Turchia, Sudafrica, ha rullato 60 partecipanti, eccetera, eccetera. E ci sono tutte le prove che sono state fatte su questi partecipanti. Meccanismo d'azione, ecco, andiamo al fulcro. Cioè, voi sapete che i vaccini tradizionali, quelli che abbiamo fatto noi sul braccio fino a pochi anni fa, in pratica, cioè in pratica molto poveramente, che succede? Il famoso virus veniva, tra virgolette, addormentato, reso inoffensivo, inoculato. I nostri anticorpi lo aggredivano e lo sopraffacevano con abbastanza velocità e quindi da quel momento in poi si era non contagiati e non contagiabili da questa malattia. Questo vaccino è del tutto diverso. È un vaccino che lavora o lavorerebbe o dovrebbe lavorare sulla genetica. Ed ecco qui, come dicono, come lo descrivono. Meccanismo d'azione, l'RNA, messaggero modificato nel vaccino Covid possono contribuire alla protezione contro la malattia. No, guardate anche i termini. Possono contribuire alla protezione. Cioè, neanche si sa se proteggerà chi si farà il vaccino. Possono contribuire. Queste sono le loro parole, non solo parole che diamo noi, stiamo leggendo perfettamente. I dati sulla sicurezza. Eccoli qua. Sugli studi animali, la potenziale tossicità per la riproduzione. E lo sviluppo non è stata contemplata. Quindi non è stata proprio presa in considerazione la potenziale tossicità. Andiamo a completare e vediamo, questa è la pagina conclusiva. Ecco la sorpresina. Eccola qua. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Non applicabile. Cioè, non esiste. 8. Numero dell'autorizzazione. Non applicabile. Non esiste. Numero dell'autorizzazione dell'immissione in commercio. Non applicabile. Non esiste. Ecco. Questo video inviato a tutte le persone che vogliono farsi il vaccino. Così sapranno almeno una piccola parte di quello che dovranno sapere sul vaccino che sarà messo in commercio nei prossimi giorni. Ci vediamo dopodomani con tantissime altre novità. Questo video condividiamolo al massimo. Ma ne avremo ancora ancora più precisi con anche parecchi studi sulle controindicazioni su quello che sta accadendo perché già qualcuno è stato inoculato in altre parti del mondo e già si sono avute le prime reazioni. Un abbraccio a tutti.